Innanzitutto era fondamentale ed è fondamentale tornare alle attività, questo è fuori ogni dubbio. Questa è la notizia più bella che sembra che questa volta veramente si possa tornare al contatto fisico fra noi musicisti e il pubblico ed è una notizia buona non solo per l'ambiente musicale ma per tutto il sociale. Che cosa potranno vedere, chi verrà a vedere questo spettacolo? Il nostro lavoro questa volta è qualcosa di diverso, innanzitutto si tratta di otto inediti, di otto brani che raccontano otto momenti della nostra vita e che abbiamo voluto aggiungere alla musica anche l'aspetto visivo, infatti ognuno degli otto brani avrà un video che abbiamo realizzato con due registi fantastici, Marco Napoli proprio di Francavilla e Nico Di Benedetto. L'altra cosa bella di questo nostro lavoro è il fatto che abbiamo voluto condividere la nostra musica con tanti artisti sia locali ma anche nazionali tipo Tony Pancella, Filmer, Christian Meyer e tanti altri che poi si scopriranno durante la presentazione del nostro film perché sarà un film non un concerto. Il film è stato realizzato poi e montato da Nico Di Benedetto il quale insieme a questi otto video ha aggiunto gli interventi di noi Opera Seconda ma anche di tutti i musicisti che hanno collaborato. Dunque la pandemia vi ha tolto questo legame ma vi ha fatto riscoprire anche un modo nuovo di tornare sul palco? Guarda hai detto proprio bene, la pandemia ci ha dato qualcosa in più perché ci ha dato modo di riflettere, di ragionare di capire che la musica non è competizione ma è condivisione e in virtù di tutto questo abbiamo pensato di realizzare qualcosa di nuovo e di ripartire insieme a tutto il nostro pubblico e a tutte le persone che ci seguono. L'appuntamento è per? È per venerdì 22 aprile alle 20 e 30 all'auditorium della Sirena qui a Francavilla.